Si è insediata oggi a Rimini la nuova prefetta Rosa Maria Padovano a suo primo incarico in questo ruolo, in servizio di Francesco Satta. Io intanto dico di essere felicissima dal fatto di aver avuto Rimini come prima sede. Rimini ha un nuovo prefetto, fresca di nomine nel capoluogo romagnolo appena da lunedì. Rosa Maria Padovano oggi ha incontrato nella sede di Palazzo Massani i rappresentanti della stampa per continuare il suo giro di conoscenza con le istituzioni e le realtà del territorio. Ho trovato un contesto anche in termini di rappresentanti istituzionali, forze dell'ordine, veramente abituati a lavorare in squadra. Quindi mi auguro che questo tipo di atteggiamento e di collaborazione perduri e da parte mia farò di tutto perché questo sia. Al suo primo incarico come prefetto Rosa Maria Padovano succede a Giuseppe Forlenza che assume funzioni a Bergamo. La nuova prefetta proviene invece dalla Puglia di cui è nativa e dove ha svolto la maggior parte della sua trentennale carriera. Prima di essere destinata a Rimini Padovano era vice prefetto vicario a Taranto. Ha lavorato nelle sedi di Bari, di Lodi in Lombardia e nelle Marche ad Ancona. Si è distinta anche nell'organizzazione di importanti eventi istituzionali di carattere nazionale e internazionale che si sono svolti in Puglia.